Doppio ex padovano, sul Napoli a ragione Allegri, Juve giocherà per vincere. Milik può fare come Higuain, su Chiesa e Osimen. Michele Padovano, per parlare approfonditamente di Napoli-Juventus e non solo. Er già trascorsa una settimana dalla scomparsa di Gianluca Vialli. Te la senti di condividere un suo ricordo? Pur conoscendo la situazione, tutti abbiamo creduto in un miracolo. Ha ragione Mancini quando lo afferma, perché la speranza è sempre l'ultima a morire. Ho perso una figura importante, un caro amico, un compagno di squadra che mi è sempre stato vicino. Gianluca era una persona molto intelligente e mai banale. Non scorderò mai i periodi trascorsi insieme in Italia e in Inghilterra quando giocavo col Crystal Palace. C'è grande attesa per Napoli-Juve, qual è il tuo commento? Er una sfida importante, se il Napoli la dovesse perdere è chiaro che il discorso per il campionato si riaprirebbe. Il destino è nelle loro mani, ma fin qui il cammino è stato netto ad eccezione della sconfitta con l'Inter. Er molto difficile far punti contro di loro, ma sono curioso di vedere come approccerà la Juventus che è in ripresa. Mi auguro una partita spettacolare, entrambe cercheranno di vincerla. Allegri e Spalletti, nella conferenza di ieri, si sono messi pressione a vicenda. Chi ha ragione? Si sono palleggiati le responsabilità, questo fa parte del gioco delle parti. Le dichiarazioni sono quelle giuste, ma chi ha più da perdere è sicuramente il Napoli. Perché un'eventuale sconfitta riaprirebbe tutto. I partenopei sono consapevoli della loro forza, difficilmente sbaglieranno la partita. Come se la giocherà la formazione bianconera? La Juve è sicuramente in leggera ripresa, ma la sofferenza di Cremona non è facile da dimenticare. Ci vorrà una squadra concentrata sotto tutti i punti di vista. Il Napoli è capace di giocare a calcio e possiede delle ottime individualità. Per me vorranno dimostrare di essere i primi della classe. Per di più c'è da espugnare una difesa che non prende gol da otto partite di fila. Gli azzurri saranno avvelenati. Milik sarà il grande ex e probabilmente il più fischiato dell'incontro. Potrà fare come Higuain. Per me sì, se partirà titolare sarà un giocatore che fin dal primo minuto darà grattacapi alla difesa di casa. Chiesa può essere un'ottima arma per la ripresa? Era un giocatore che per la Juve è fondamentale. Sicuramente negli ultimi 30-40 minuti può far la differenza e offrire quegli strappi di cui c'è bisogno. Come si comporterà la difesa brasiliana contro il capocannoniere del nostro campionato? I difensori dovranno essere bravi a non farlo mai girare e ad anticiparlo sempre. Sarà una missione impossibile perché Osimane è davvero molto bravo. Sarà un lavoro difficile per il reparto bianconero. Napoli o Juventus, chi vincerà? Nessun pronostico, non li ho mai indovinati e non li faccio neanche. Spero in una bella serata di calcio e di spettacolo, le premesse ci sono tutte. Si ringrazia Michele Padov. Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla. Ciao! 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 Grazie a tutti.